Grazie per aver guardato il video, oggi in questo video potete dire come cosa posso mettere il livello perchè io sto all'opera levo e non mi ricordo il mio addirizzo quindi dire il livello cosa posso mettere, grazie insomma in questo video che ho detto nella sigla della conspirale e non importa